Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Con la vittoria sull'Elicese il città di Teramo brinda al secondo successo di fila e la prima vittoria interna stagionale. Segnali positivi sono arrivati anche dal reparto difensivo che per la prima volta non ha subito reti. Un successo che permette Biancolossi di mantenere la distanza di 4 punti dalla vetta occupata dalla Turris Val Pescara che ha battuto ieri la Rosetana. A fine gara il pensiero del direttore generale Romolo De Baptistis. Siamo contenti perché vincere, come si dice, aiuta a vincere. Noi in questo momento abbiamo bisogno di vincere, quindi una vittoria che sicuramente farà morale, farà stare bene la squadra. Come dico sempre non andiamo a guardare oltre, già pensiamo a domenica senza pensare a poi quello che sarà. Dobbiamo fare un passo alla volta, questo sicuro. In tribuna ad assistere alla gara era presente anche il presidente del notaresco sconfitto ieri in casa dai Chieti, Luigi Di Battista. Ho visto una bella squadra, una bella partita, anzi tutti i ragazzi bravi si begnavano un bel po', ho una bella impressione. In futuro Teramo potrebbe anche sperare in questa fusione? È un po' difficile perché ho fatto già una promessa. È difficile dirlo ora? No, 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 troppo ti posso quasi garantire che almeno per tre anni ho dato stare con il notaresco. Quindi non c'è speranza? Al momento no. Al momento non c'è speranza, no, no. Non c'è speranza, no.